La regione Campania alla fine sarà la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po' di pazienza ma ci stiamo arrivando. Ci sono regioni che trasmettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per fare abbassare la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva. Vedrete, nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri. In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case nel periodo festivo, ve lo anticipo. E' giusto vivere in maniera sofferta anche il Natale, il Capodanno, le feste? Fatta così la domanda diremmo tutti quanti non è giusto poter incontrare anche i familiari più lontani, anche mettere in contatto i nonni con i nipoti, fare il pranzo, la cena, Natale, Capodanno, tutti quanti insieme. E' chiaro che sarà una grande sofferenza per tutti quanti noi. Ma la domanda da fare anche in questo caso deve essere completa. E' giusto avere questa condizione di sofferenza sapendo che se facciamo un pranzo di Natale 20 parenti, 30 parenti non conviventi, anche con i nonni, sapendo che poi a metà gennaio dovremo portarli in terapia intensiva, la risposta credo che sarà per il 99%. E' giusto fare un sacrificio per evitare che per un momento che è umanamente non solo comprensibile ma sentito da tutti quanti noi di intimità familiare, poi dobbiamo scontare a gennaio un nuovo picco di esplosione di contagio. Grazie a tutti.